Sì, sì. Sì, da quando ti conosce non ti ho mai visto con un gruppo così convivente. Il ragazzo, il suo mare, è Emiliano. E se il povero diseggiato ti ha venuto a fare. E se lo erano i vostri amici, era una cosa, ragazzo. Se tu non vivessi nei cagliotti, lo conosceresti. Arriviamo fino alla tua pagina, non in questa montagna. È una vita di tutto ricordo. Ma guarda che strano. Di solito non si sentono molto i contatti. Ma non ci si dare troppo. Stanno verificando diversi incidenti.